L'importanza della semantica, il significato delle parole. Molto spesso in questo mondo si usano delle parole che non hanno un significato veramente realistico, ma giocano un po' su assonanze che possono influenzare il consumatore. Ecco, tra queste ce n'è una in particolare che io cito anche nella copertina del mio libro, ovvero la cosmeceutica. La cosmeceutica e i cosmeceutici, vi devo confessare, non esistono. A livello merciologico infatti esistono i cosmetici, che sono regolamentati a livello europeo da una legge molto severa, e i farmaci. I farmaci servono per curare, i cosmetici servono per mantenere in buono stato, per cui vi premetto già che è un termine che ufficialmente non esiste. Però è anche vero che esistono delle formulazioni di un certo livello, delle formulazioni che sfruttano delle sostanze realmente efficaci nell'aiutare la pelle a mantenersi in buono stato. Queste particolari molecole attive hanno la fortuna di essere presenti anche in farmacopea, ovvero ci sono degli ingredienti presenti nei cosmetici che sono anche ufficialmente presenti in farmacopea, ma a differenza dei medicinali non hanno effetti colaterali, non sono pericolose, non sono vietate. Ecco che un cosmetico che possa valersi di ingredienti razionali scientificamente validati, penso all'acido ialuronico, al retinolo, alla caffeina, all'acido ascorbico, sono tutti ingredienti attivi farmacologicamente che si possono inserire nelle formulazioni cosmetiche. Queste formulazioni cosmetiche arricchite da questi ingredienti particolarmente attivi riescono a dare una marcia in più al cosmetico, a creare una sorta di cosmetico turbo, perché le virtù di queste sostanze sono riconosciute, sono, come si dice, validate. Ecco quindi che il cosmeceutico potrebbe rappresentare una vera opportunità per il professionista, perché a differenza di tanti ingredienti che fanno leva sull'emozione, penso a tutto il mondo chiamato fantacosmetico, che io chiamo fantacosmetico, pagliuzze d'oro, polvere di diamanti, tutti ingredienti molto emozionanti dal punto di vista marketing, ma poco consiglia un discorso fisiologico. Ecco, la cosmesi scientifica dà dei risultati maggiori. Potremmo chiamare questa cosmesi scientifica cosmeceutica, proprio per l'intersezione di due termini, il cosmetico e il farmaceutico. portano al concetto di cosmeceutico, quindi parola di fantasia, ma una fantasia molto concreta e molto utile.